A Live Meeting nessuno può mancare e soprattutto non vogliamo che alcuni lasciano di venire per problemi economici. Per questo vogliamo chiedere il vostro aiuto. Ci sono tante famiglie molto numerose che vogliono venire, anche giovani dei cinque continenti, persone delle missioni emblematiche più distanti come Papua, Tanzania, Medio Oriente. E quindi quelli che già venite potete aiutare pagando un poco di più oltre alla vostra iscrizione, adottando ad altri. E anche quelli che non potete venire potete adottare alcuni giovani o famiglie. Quelli che siete interessati in questo progetto potete scrivere a questo email e ricordate che Dio non ci lascia mai vintare in generosità. Ci dobbiamo aiutare come una grande famiglia. E viva Sant Giuseppe!